A fronte di un mercato del lavoro dove i contratti a tempo indeterminato spesso rappresentano una chimera sono in tanti a sognare il posto fisso e a offrirlo adesso con le tante uscite legate a quota 100 e soprattutto la pubblica amministrazione. Chiara Spegni. A un'età fra i 28 e i 55 anni spesso si tratta di una donna. È questo l'identikit del candidato degli ultimi concorsi pubblici indetti nella nostra regione. Secondo una prima analisi condotta dal centro studi della CISL Funzione Pubblica Marche sono almeno 50 in media i candidati in lizza per ciascun posto in palio nelle selezioni bandite nelle ultime settimane a partire da quelle nella sanità in cui l'Asur ha fatto squadra con le aziende ospedaliere per creare bacini ai quali attingere in futuro a livello regionale. La più gettonata è la prossima selezione per gli infermieri dove la stragrande maggioranza dei partecipanti è composta da donne. Oltre 7.400 le domande per 56 posti. La graduatoria però rimane aperta per tre anni e saranno quindi possibili nuove assunzioni. Sempre nella sanità, altro concorso importante è quello per reclutare amministrativi. Oltre 6.000 le domande, in due terzi dei casi donne, per 30 posti destinati a diplomati e laureati. Quasi mille persone invece candidati per fare l'infermiere a Torrette con contratti a tempo determinato. A procedere in ordine sparso i singoli comuni che finora si sono mossi soprattutto per assumere nuovi vigili urbani. Sarebbe importante, fa notare il sindacato, che in una regione piccola come la nostra le amministrazioni si mettessero in rete per evitare inutili dispersioni di denaro ed energia creando un bacino comune a cui attingere per assumere amministrativi, tecnici e vigili urbani. Il 2020 comunque è appena cominciato e altri grandi concorsi sono in vista. Quelli per amministrativi sia al comune di Ancona che alla regione e quello dell'Asur per operatori sociosanitari.